Ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati incredibile su Project Playtime pazzesco e assurdo, sarei dire non so se riuscirò a fare un quarto video oggi però ho già tre video oggi, ho fatto Palwar da Elden Ring e adesso un episodio di Project Playtime che voi vedrete ovviamente sempre fra due settimane perché io sto sempre due settimane come minimo avanti a poi se non dieci giorni sono di buon umore ragazzi, quando sono di buon umore ho una parlantina veloce, loro pensano di avere una parlantina veloce ma non sanno con chi hanno a che fare comunque incredibile, allora l'altra volta abbiamo fatto con Agiwagi incredibile, con il cappello incredibile e oggi mi volevo fare Mammy Long Legs che detto così suona di un male ragazzi, ci ho pensato adesso però volevo giocare in senso positivo non in quel senso birbanti e poi lo sapete che tra me e Mammy Long Legs ho molta stima reciproca, ho pensato dato che ho fatto tre video con gli specialisti secondo me almeno due video a mostro prima di ricominciare con gli specialisti potrebbe essere una cosa simpatia quindi sì, anche oggi sarà un video con il nostro inimitabile Agiwagi cioè tre con gli specialisti perché avete visto che le partite come specialisti sono un falimento totale non ho mai vinta una con i mostri sono un po' più divertenti diciamo la verità è il mio è tutto uno scamotage sus per rimettermi il cappello diciamo la verità forza e lo possiamo dire è il momento 3, 2, 1 eccolo ragazzi il cappello di Agiwagi che poi non essendo uscito ancora il video scorso io non so come avete preso l'idea di avere questo cappello di Agiwagi incredibile che mi rende ancora più forte non lo so però tra l'altro un giorno comprò pure quello di Kissimissi ditemi se esistono altri cappelli appena ho qualche sordo li compro comunque allora io direi di andare a giocare come mostro come abilità io andrei avanti con questa perché è veramente forte e non la possiamo neanche potenziare perché abbiamo nessun punto possiamo però comprare un'abilità che dite? facciamo un po' possiamo comprare qualcosa di nuovo o ci conviene potenziare questa? che no in realtà l'abbiamo già potenziata allora questa dovrebbe essere fortissima però non ho capito come funziona cioè quando tu ferisci alcuni tizi e usi questa abilità istantaneamente vanno dentro i secchioni per capirci questo pure è carino che gli blocchi le porte vabbè intanto le compriamo tutte compriamo questa qui però per adesso vorrei usare questa perché ho paura che devo capirla ma intanto l'abbiamo comprata secondo me tutti gli specialisti feriti saranno immediatamente depositati nei depositi la vogliamo provare ragazzi la vogliamo provare proviamola dai proviamo secondo me questa potrebbe essere una figata perché se io ne ferisco tipo due o tre magicamente vanno nel secchio più vicino proviamo ragazzi sperimentiamo un pochino dai fai da match vai come al solito ragazzi questo è l'orario sus quindi non so come andrà l'altra volta siamo stati abbastanza fortunati con le partite siamo stati fortunati nelle partite nel senso che abbiamo vinto le due partite con Akiwagi perché erano giocatori che avevano appena aperto Project Time per la prima volta dell'altro video io registro più di un'ora io non so quanto vedrete del video scorso con Akiwagi secondo me vedrete tipo massimo un quarto d'ora non sto scherzando ragazzi io sono stato più di 40 minuti così perché non mi trovavo ai giocatori ai 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 mi sa questi sono forti eh Ninja Master se uno si chiama Ninja Master vuol dire che promette bene glielo lo dico ah subito vai proviamo teatro dai una botta di vita dai ragazzi vediamo come va io come al solito vi dico sempre il mio dubbio che ho qua Akiwagi allora una cosa l'abbiamo scoperta che quando Akiwagi fa la corsa e ti abbraccia sei shottato quello che mi preoccupa però di Akiwagi e io lo continuo a dire abbiamo vinto no col teatro quello che mi preoccupa di Akiwagi è quando troviamo se troveremo cosa che io spero di no però per forza un giorno li imbeccheremo i giocatori sus che diciamo sanno giocare e mi salgono sui posti sus io con Akiwagi come faccio a prenderli? non li posso prendere con Akiwagi capite? quello è il problema perché con Mami Long Legs mi arrampio che tra l'altro un ragazzo mi ha pure detto che l'abilità di Mami Long Legs di appiccicarsi dal murio ce l'ho sempre avuta solo che nel video dove ho usato Mami Long Legs non ce l'avevo pensato pure Boxibu salta capito? Akiwagi no quindi io ho paura che semmai incontriamo questi tipi di giocatori un pochino più sus secondo me cicciullano male comunque dai ho un'oretta di tempo spero di fare almeno due partite sempre che la mia connessione regga ragazzi sono quasi ve lo dico al volo sono quasi 5 minuti che lo sto bloccato in questa schermata siamo a 9 minuti che sto bloccato in questa schermata aiuto ragazzi sono dovuto uscire dal prima perché erano più di 12 minuti che stavo in quella schermata quindi non so che è successo secondo tentativo vediamo un po' vediamo se stavolta non si riblocca un'altra volta la schermata di caricamento perché prima l'aveva trovato i 7 però poi mi aveva bloccato nella schermata di caricamento e niente vediamo un po' se questa ce la facciamo io per carità capisco che loro siano impegnati al capitolo 4 però scusate se non l'aggiornate mai questo gioco cosa l'avete fatto a fa' domanda di un milione di dollari incredibili cioè ci avete perso un anno il capitolo 3 di Pop Item è uscito in ritardo proprio perché dovevate fatto il gioco e poi tanto per farlo e poi non l'avete più aggiornato mannaggia mob e aggiorna lo costo cuttrap perché io vorrei voler usarlo cuttrap qui comunque ok il momento è attivo il potere akiwaki allora ce ne abbiamo 4 vediamo un po' ok ne abbiamo trovato già uno aia ragazzi secondo me questi sanno giocare uno di loro secondo me sa giocare perché lo sento che zompa parecchio quindi diamo un po' l'abilità wow l'abilità è fortissima vedete che hanno messi magicamente 2 nei tombini eh tanta roba l'unico problema di questa abilità ovviamente è che io non so dove li ha messi ok qui nessuno l'ammazza non li va aiutare nessuno non li ha aiutare nessuno non siete molto amici come specialisti eh agghiwaki arriva eccolo qua un altro è morto mettiamo lo specialista a dormire come direbbe agghiwaki agghi scolere e ne ho ammazzati già 3 dobbiamo trovare l'ultimo senti i passetti sus ah 2 sono morti male ah vi direi che non ho un'abilità sus per trovarlo quindi a meno che è andata aiutare quello è un po' che te batti tanto è buono l'ho trovato agghiwaki arriva nice try adesso ti mangio non puoi scappare da agghiwaki ma perché corre al contrario questo? c'ha qualche problema? questo ci sta provando tantissimo ragazzi e adesso abilità agghiwaki vabbè fichissima questa abilità ragazzi è troppo figa cioè tu ne fai secchi due ecco come faceva quel pro player che abbiamo incontrato un tempo fa fichissimo specialisti depositati uno come è possibile? ho usato l'abilità due volte dovrebbe vabbè sus oh vabbè ragazzi è andata bene direi che questa abilità mi piace molto per carità questa qui è molto figa perché mi ha dato solo 30 punti? ahhh se uso l'abilità non mi dà i punti? no che cazzata cioè se non li metto dentro io ma uso solo l'abilità non mi dà i punti cioè questa è un po' un'infamata ma che vuol dire scusami allora qual è il bello di usare un'abilità che mi permette di essere più competitivo perché ne ferisco due istantaneamente me li metti dentro e te non mi dai i punti perché non li deposito io mano a mano a mob a mob allora che l'ho comprata fa sta abilità scusami se devo giocare come prima che li ferisco una alla volta metto dentro e mi dai 30 punti allora qual è il vantaggio di avere un'abilità così comoda? scusami l'ho comprata e ci sto investendo solo me devi dare lo stesso i punti ma scusami ecco perché ne segnava uno su quattro ma piantala va può essere che mi sto sbagliando ragazzi però di solito da 30 punti per ognuno che metto dentro il cestino non mi ricordo quanti punti avevo prima però me ne dati solo 30 secondo me quindi uno solo infatti mi segnava alla fine mi sa che c'ho ragione quindi la devo usare solo se sono disperato questa abilità ma io tengo con questa abilità sus però mi pare una cavolata pazzesca 7 su 7 ragazzi attenzione questa è possibile che non l'ho mai fatta questa miss fit pit mi sembra una cavolata però ho paura che sia così perché infatti prima mi diceva morti nel senso io ne ho portato solo uno di persona dentro la buca gli altri ho usato l'abilità questa è bellissima mi sa che userò sempre questa immagine davanti è bella allora secondo partita vengono caggy wagi non credo riuscirò a farne una terza però vediamo a meno che questa è rapida comunque l'ho detto saranno tutti i pro player sono 6 giocatori sus vediamo un po' ecco questa è pure una mappa sus che non è che mi ricordo bene quindi quindi attenzione cerchiamo di usare il potere di aggy wagi in maniera intelligente questo c'ha lo scafandro sus nooo cavolo vabbè aiaia ragazzi questa è una mappa che io non conosco bene quindi devo cercare di ricordarmi dove stanno questi non ci credo che è lui oh mamma mia non ci credo mai nella vita che è quello che penso non è lui per un attimo pensavo fosse il tizio che abbiamo incontrato qualche episodio fa abbiamo trovato un simpaticone mi sa questo è il laggone ok questo ragazzi ha un po' di problemi ok questo l'abbiamo fatto secco questo guarda come corre con l'abilità scarica ragazzi quindi questo lo prendevo ok è il momento di finire nel tombino pure tu questo pure lo mettiamo a dormire cioè quello con la maschera dorata che già vi posso dire ragazzi che ci darà del filo da torcere questo potrei prenderlo se riuscissi no vedi non mi fa fare l'abilità sus vedi questo è il simpaticone del gruppo ragazzi l'abbiamo trovato eccolo qua tu proprio devi soffrire tu sei proprio quello simpaticone che c'è spesso ok ecco di qua Ghiwaghi sta arrivando dove scappi eccolo un colpetto è stato bravo ah ma questo è lo stesso di prima oh mannaggia qualcuno finirà nel tombino sus oh questo è quello di prima che voleva far simpatico oh senza pietà ecco fatto e adesso abilità gli aghiwaghi stravince vabbè vedi adesso mi ha dato i punti infame vedi 190 perché non messi 5 dentro vedi ho ragione io se non uso l'abilità sus non mi dai punti va bene due partite buone va bene mamma mia 1050 punti ragazzi siamo fortissimi ma per carità c'è una parte di me che vorrebbe comprare robe però costano troppo ragazzi 10.000 ma devo tenermi punti per una vita non conviene mai la vita che dite ragazzi facciamo la terza con questa qui o vogliamo rimetterci questa qui il no pack però questa è veramente comoda mi piace veramente tanto questa abilità però ne vorrei comprare un'altra che magari proviamo la prossima volta oppure me li tengo vabbè me li tengo sti punti magari con mammi long legs ci compriamo un'altra abilità sus però secondo me queste due sono tanta roba ditemi voi questa apre tutte le porte questa è carina l'idea ma se trovi quelli forti che si mettono a fare il puzzle e il puzzle li blocca questo pure è sus perché gli rompo i puzzle e ci metti un po' a ricostruirli e questo è inutile questo me l'hanno usato una volta su di me ma non l'ho capito cioè questo dovrebbe mettere un tipo un fumogeno che tipo cutnap che non fa vedere però di fatto poi vedi quindi questo è un po' sus mi sa che me li tengo i punti se me lo trovavo entro dieci minuti facciamo tre partite guaggy guaggy altrimenti queste due vanno bene ragazzi pj power piller penso sia uno dei nemici più orribili che abbia mai visto è disgustoso e se penso a com'era il prototipo che doveva essere una femmina mi avete raccontato sembrava verde aggy guaggy gli dico che è successo gli ho amassato una skin che non mi ricordavo dove esce comunque potere di aggy guaggy attivazione siamo in quattro vediamo un po' ok questo no c'è uno di questi oh no c'è il simpaticone ok uno ha quittato già vabbè questo è sparito il simpaticone l'ho messo da qualche parte questo ha quittato quindi andiamo avanti aggy guaggy è felice ox a day keeps the monster away rimangono due vediamo un po' se li troviamo ah uno si era chiuso qui ma dai prima volta che ne becco uno che si chiude qua ma che carino quello era almeno già provato a nascondersi nell'armadietto è stato abbastanza sus e ho vinto vabbè gg vabbè questa è stata proprio così che faccio rischio ne fanno un'altra quattro partite che dite sono indeciso di provare a farne un'altra vabbè dai vediamo un'altra questa è basta poi ragazzi oggi record mai fatte quattro partite vediamo un po' dai non approfitto ragazzi perché non mi pare vero che oggi sta trovando partita abbastanza velocemente immaginate un giorno i personaggi del Godoverse incredibili disegnati in questo stile di popibilità sarebbero adorabili vedete ragazzi determinazione e Godo ragazzi si arriverà in alto guarda quanto è felice Owen the one lassù quarta partita per noi abbiamo iniziato un po' sus qua giù vediamo un po' questa abilità sus di Agiwag che mi sta piacendo veramente tanto ve lo dico qui c'è Boxiboo per carità è carina quella che gli rompi i cosi poi per carità proveremo anche le altre però questa per adesso è la più figa in assoluto questo camminava così un po' sus un po' troppo tranquillo questo questo così camminava in giro così stava a fare una passeggiata ok questo è andato per adesso non gli interessa aiutare il loro compagno trovato ragazzi lo scattino di Agiwaghi è incredibile comunque io ve lo dico è veramente incredibile Agiwaghi oggi va fuori tutti ve lo dico Axe Day keeps the monster away sono diventato romano ah l'ho andato ad aiutare ma che simpaticone questo è morto ok ragazzi vediamo un po' dove sono qui niente ragazzi se si sono nascosti non li recupereremo mai senza la vita di Maminoplex questi eh secondo me si sono nascosti perché non stanno facendo vedi mi vogliono aspettare che passa il tempo vabbè è una strategia anche quella si sono nascosti da qualche parte sus e aspettano che errore hai fatto fratello secondo me verrà a aiutarlo voglio avere l'abilità a carica perché se lo vedo e te ne vai a casa vinta quattro partite ragazzi mi ritengo veramente soddisfatto oggi eh oggi proprio Agiwagi il massacro questa abilità mi piace da morire va bene ragazzi io direi che per questo episodio assurdo può finire qua abbiamo dominato tutto con Agiwagi incredibile Axe a day keeps a monster away e questi sono stati magnati come dice Agiwagi romano comunque ragazzi incredibile che il goto sia con voi noi ci vediamo al prossimo episodio di Project Play dove useremo di nuovo Mami Longlegs la mia dorata incredibile cuoricino per Mami Longlegs noi ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video che il goto sia con voi e ci vediamo nella prossima puntata Grazie a tutti